La scuola Zio!!! Ma ciò più fiazza! è una stupona me Pia, tu d'otto? oh ti aiuto io a farlo ti aiuto io a farlo c'è stato mortale perché? dai ti giro la gamba io no mi giro la sua cosa c'è stato mortale devo cercare di fare l'avvitamento cioè quando sono in aria con la spinta devo chiudere le braccia e comincio a ruoteare eh lo so ma c'ho la caga di atterrare male non c'ho più fiato e non fumi vai 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 ci prendiamo in realtà è quando senti per darti il giro non ti dai potenza in alto vai vai basta che non faccio oh se hai coraggio se hai coraggio da là in alto lo faccio anch'io vai 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 fanne un altro guarda che difficile perché ti spara verso di qua doppio all'indietro dai guarda che giù è il Capiolo cheane richiamassi un Cameron è il Capiolo pi convexo no ragazz sistemas adesso